Sì, sì, eravamo messi da Dio. Ah, ma adesso abbiamo 455.000. Vabbè, tanto quelli là saranno un milione e mezzo, quindi buonanotte. Sì, infatti, ormai... ...quanto minuto. Sì, ormai... ...quanto minuto. Oh, Gesù. Qui, 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 qui con me. Morto. A caso l'ho ammazzato, adesso. Ha craccato? Sotto. Ottimo. Oh, porca... Tetto, tetto, tetto. Sì, 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 sì. Mi ha fatto malissimo con una mina. Siamo a un milione. Cosa? Bro, siamo secco... Ma mi scusi? Prendi gli soldi, prendi gli soldi. Mister? Non ci credo! Ma mi scusi! Ma mi scusi! Non ci credo! No, mi scusi un secondo! Ma come abbiamo fatto? Vivo, sono scivolato a prendere l'ultimo fatto di soldi, eravamo in secondi, si è andato qui prima. Ma come è successa sta cosa? Non ero più palle di te. Siamo morto 25 volte io. Sì, è partito di merda, è continuato di merda. Guarda quello, quanti soldi ha fatto! Ha fatto tutto lui, ha fatto... Sì, sì. Noi eravamo lì a caso, questo si è fatto 777.000. Eravamo a 500.000, siamo arrivati a 1.200.000 in 3 secondi, non ho capito cosa sia successo. Va, va bene. Sì, vuoi fare un'altra e ci sono. Va, va bene, va bene. Non ho capito, cioè, eravamo più persissimo. Eravamo poi a 400.000 e tutto è proprio persissimo. Ma pensi a questi qua che si sono fatti un milione pian piano, siamo arrivati negli ultimi 20 secondi. Poi tra l'altro, cioè, siamo scesi, siamo diventati 8.000. Sì, sì. Ma di 8,000 poi siamo diventati 6,000, siamo diventati 3,000. Non so come poi siamo diventati... Non so come ho parlato alla fine per raccogliere i soldi di quello lì che mi avvitano sul tetto, prima. Allo scopera del tempo, guardate, però non è vero. Ma dimmi te. Granata partita. Terra. Terra, un altro. Morti tutti. No, non tutti. Sceso, sceso. Lì dentro. Non mi fa cazzo, non mi fa ingacciare, ci metteva un colpo di fucile. Se ne gli lanciano, si scaglie da me. E' un po' di te che ce l'ha sempre. Bra, bra, bra. Siamo alleati. Non mi sono trovato l'interno, con i piedi su, non mi sono trovato. Un stile indiscesa. Staccato. Quasi ucciso. Qua dietro, qua dietro. Via. Posto. Andiamo a droppare. Eh, taglia, taglia. Dobbiamo andare... Dove cazzo andiamo? Ci abbiamo a fianco. Qui, 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 qui. Uno ucciso. Taglia presa. Boh, un milione fatto. Dove ho visto come fa? Hai visto? No, come fa. Dove è così in solo? Posto in discesa. Dove cazzo sta? Guarda, dobbiamo solo fare soldi, eh. Sembra che... Dove è mi cazzo? Ci sono? C'è l'ho visto. Dove è mi cazzo? Dove è mi cazzo? Uno morto. Togli l'armenzione. Togli, togli, togli. Ne abbiamo. Soldato nemico in arrivo. Lo mi ha visto fuoco. Sì, fuoco. Allì, allì. Dietro di noi. Nemico in discesa nell'area operativa. Sì, è morto. No, io ne ho visto. Ti è magnetato? Droppano. Qui? È morto. Sei suicidato. Da shit. Lo scatitissimo. Ce l'ho qui? Ce l'ho qui da me? È morto. È morto. Sopra di me, sopra di me anche. Morto? Dove vi? No, chi di dove? Mi è tranquillamente qui, mi è mazzico. Erano questi qua? A terra, proprio, tranquilli. Potremmo andare a depositare tutto. Non so dove, però. Dove cazzo andiamo, fra? Qua, andiamo. Soldato nemico in arrivo. Ma come è soldato nemico? Andiamo addosso. Droppato là sopra. Aiuto. Vedo un movimento. Soldato nemico in arrivo. È morto? È morto? A posto? A posto? A posto. La gente è qui sopra? Morto? Morto, morto. Che brutalità. Che brutalità. Porca puttana. La gente è qui? Cambio zona. Venga. No, 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 prendi la macchina. C'è dietro di te? Aspetta, aspetta, aspetta. Fermo, fermo, fermo. Sono imbestito. Via, fuori dal cazzo. What the fuck is this boy? Devi tenerla di più, fra. Così è già troppo tenuta. Troppo poco. Quinta, venga, venga, venga! No, fra, io ho fatto un quickscope. No, fra. Se l'avessi ucciso, io ti giuro, su Dio. No, io posso. No, io posso. Mi stai versando e l'avessi ucciso, perché erano guardati, io mi mancavo un pochissimo per essere canzello. Fra, io ho fatto un 180 quickscope e l'ho craccato. No, 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 no. Se l'avessi ucciso così, fra. Ho senso tempo di dire. Dai, che io i prodotti. Quanti. Quante chi le hai fatte, bro? Io vado. Che c'è una banca. Veloci, ho capo la... Che è scesa nell'area operativa. Su. Gente, andiamo a dire, non è morto, bro. Eh? Non era morto, bro. Ma come? Mi auto rianimo, se riesci a tirare lì su. Cioè... No, rianimati, rianimati, rianimati. No, no, rianimati. Sono sullo stadio, allora. Eh, no, anche davanti a te. Sul ping, craccato, uno. Qualcuno mi sta sperando. Un nemico in volo. Dei cash? Non so chi... Un nemico in volo. Un nemico in volo. Un nemico in volo. Un nemico in volo. Che cazzo mi sta sparando? Questi non sono capaci proprio a giocare. Qui c'è un bersaglio. Sempre su quel tetto, fra. Bro, non mi fa prendere i soldi, cazzo. Eh... Il numero di qua ho fatto il punto non migliore. Uno è tatissimo. E ti assicuro più denaro che puoi. Attenzione, elicottero d'assalto animale. Un nemico in arrivo, affattetelo e prendete il denaro. Dove me la settimana torna? Me lo ho recuperato. Io l'ho abbattata. Qui sopra, sopra, sopra. È morto, è morto anche lui. È morto anche lui. È shottato podrio. Sono primi, eh? No, sì. Vado a prendere la taglia, fra. La terra una sulla torre. Chi cazzo è che mi spara? Ah, eccolo. E dove vado? Però, ma mi ha buttato a te. Mi ha buttato... Cazzo per terra, vicino al... Fera un po'. Tipo, a metà stadio. Senti, mentre con il trombino. A terra? In bocca a uno. Cazzo, figlio di bastard. Dove siamo in secondi per riuscire. Oh, attacco a grappolo. Su quel tetto c'è gente. Movimento! Stiamo... Stiamo presendo i misoi, diciamo... E... Com... ... ... ... ... ... No, missione compiuta. Versaglie eliminati. Onesto. E quindi, tipo, siamo a secondo? Ok. Onesto. Dopo lì, mancava un secondo, si avrebbero superati. E... Davvero, proprio allo stesso stacco. Mancava, tipo, neanche 100.000. Vala, te doi. Vala, te doi.